I dettagli più assurdi di Benten. Quasi tutti gli alieni di Benin in italiano hanno un nome stupido come Gelone, anche se Inferno si chiamava così nei concept. Personaggi come Verdona, Sublimino e persino Tetrax Shard dovevano apparire in universe. Ma mai apparsi. Per Tetrax solo la sua controparte della dimensione 23. L'automobile di Ben non apparire in universe sembra poiché sua madre Sandra la usa. Il fratello maggiore di Gwen non appare in nessun'altra serie, e questo è triste perché lo rende dimenticato. Il cane di Ben esiste nella continuità originale ma semplicemente è stato spedito in una fattoria con altri cani con cui giocare. Pelle d'oca ha avuto design diversi in ogni apparizione nelle serie. La cicatrice che toglie i peli dal mento di Kevin durante un combattimento in Ben 10 Omniverse pare che è rimasta nel futuro da come si vede qui, in un episodio ambientato in un futuro alternativo dove Kevin è ancora malvagio ma il colore è un marrone leggero o qualcosa mentre in Universe viola rosastro o qualcosa. Il peggiore è indistruttibile. La serie usa i Kirby dots. E per finire, la serie ha molti riferimenti e citazioni ai cartoni animati e tanto altro, come che in un episodio fanno un riferimento a Scooby-Doo senza menzionarlo.